Oggi una classifica pucciosa e carina come piace a noi. Sono sicuro almeno una volta abbiate visto animali esotici così carini da volerli strappare le guanciotte o accarezzare. A tutti i costi. Oppure adottare e portarvelo a casa per occuparvene una settimana e mollarlo a vostra madre. Sfortunatamente la maggior parte degli animali esotici hanno un costo molto elevato. Non solo perché sono rari e difficili da prendere ma anche perché in realtà è sconsigliato tenerli in casa. Hanno bisogno di habitat particolari e di una vita particolare per sopravvivere. Non voglio quindi andiate a comprarvene uno. Voglio semplicemente mostrarveli e spero vi piaceranno quanto a me. Prima di cominciare sapete già cosa fare giusto? Se siete seduti o sdraiati o una mezza via quindi seduraiati partiamo. Capibara. Ok magari a una prima vista viene da pensare cosa a sto roditore sarebbe un animale carino da adottare. In effetti molti hanno paura dei roditori. Se poi parliamo di quello più grande in circolazione beh gli infarti sono assicurati. Eppure è nella lista perché è anche uno dei roditori più socievoli del pianeta. Non vi batterà il 5 ma vi terrà compagnia nelle notti difficili senza problemi. Specialmente da cuccioli sono una cosa a dir poco kawaii. Insomma parliamo però delle difficoltà nel tenerlo. Anzi prima c'è da dire che non in tutti i paesi un tempo era possibile adottarlo per via di alcune superstizioni che giravano riguardo il capibara. Beh pure i cani in molti paesi sono considerati impuri o demoni ma tralasciamo questi complessi discorsi e andiamo al dunque. Può pesare fino a 70 chili e superare il metro di lunghezza. Vi immaginate? Un giorno tornate a casa con in braccio un capibara mentre vostra madre cucina sicuramente vi tirerà addosso tutti i mestoli disponibili. Con un'aggiunta di botte con padelle. È chiamato anche maiale d'acqua perché appunto ha bisogno anche di una zona molto acquatica in cui vivere oltre che della terra. Per questo motivo vi servirà pure una piscina abbastanza grande, obbligatoria. In alcuni paesi poi bisogna avere una specie di licenza per tenerlo. La difficoltà maggiore sta proprio nel sapere intrattenere la sua indole socievole. Ama talmente tanto comunicare con altri che moltissimi consigliano anche di adottare un secondo capibara per non mandare in depressione il primo. Non hanno mai fatto del male a un essere umano e se amati nel modo giusto possono essere pure più leali di un cane. Ovviamente non è ancora stato provato nulla, ma se vi sentite soli e depressi questo roditore gigante può essere una buona alternativa a un cane, anche se richiede molti più sforzi di accudimento. Servalo Non possiamo tutti adottare una tigre del Bengala come Mike Tyson oppure anche solo una tigre normale, ma nel caso volessimo entrare nel mondo dei felini abbastanza grossi e cattivi possiamo adottare un servalo. È originario dell'Africa e un adulto può raggiungere gli 80 cm di lunghezza con un peso di 12 kg. Ok, magari niente di eccezionale, però un po' più grosso del tipico felino da casa. Ripeto, si può adottare ma è bene seguire certe regole. Prima di tutto mai e poi mai cercare di ammaestrare un servalo adulto. Sono animali molto solitari e cacciano come belve per sopravvivere. Solitamente prede piccole, però per proteggere il loro territorio possono affrontare anche qualche animale più grosso. Quindi bisogna adottarlo da cucciolo per fare in modo riconosca il padrone e abbia rispetto per esso. C'è bisogno poi di un bello spazio per farlo saltellare qua e là, altrimenti rischia di irritarsi. Infatti alcuni hanno un giardino creato apposta per l'animale. Il fennec Questo essere è forse una delle cose più adorabili che abbia mai visto in vita mia e ancora oggi sto cercando di capire se in Italia è possibile o meno adottarlo. Sembra tipo arrabbiato ma allo stesso tempo troppo carino per essere sgridato. È chiamata anche volpe del deserto perché abita il deserto del Nord Africa. Non preoccupatevi, non crescerà mai troppo. È tipo la volpe più piccola del mondo. Pesa meno di un chilo e mezzo e può arrivare a un massimo di 30 centimetri di lunghezza. Se nella vostra vita avete sempre cercato di capire se siete persone da cani o gatti, beh ora potrete scegliere tranquillamente questo. Perché diciamo ha due personalità. Pensate che sono quelli che instaurano rapporti amorosi più lunghi, anzi, quando si legano in modo amoroso rimangono con il loro partner fino alla morte, finché morte non li separi. Amano conversare con i loro versi, ma il problema è che sono anche molto pigri di giorno. Amano dormire e sonnecchiare. La notte è tutta un'altra storia, essendo animali notturni, saltellano qua e là e spesso fanno così rumore da risultare quasi fastidiosi. Sono quindi sia gioiosi e giocherelloni come i cani che autonomi e se necessario pigri come i gatti. Sfortunatamente però i giocattoli non sono proprio il loro forte. Non capiscono bene cosa servano i peluci o tutti quegli oggetti che vengono creati per cani e gatti. Quindi distruggono la roba e continuano a saltellare tipo Heidi tra i monti. Per concludere, in realtà ho letto da varie parti che non è illegale tenerne uno in Italia. Il problema è che non riusciranno mai ad adattarsi alla vita di una famiglia media italiana, o almeno non riusciranno facilmente. I primi tempi bisognerebbe tenerlo d'occhio quasi 24 ore e insegnarli i nostri orari di sonno. Piuttosto molte associazioni consigliano di lasciarli nel loro habitat naturale. Al contrario, in America moltissimi hanno adottato i fennec. Terrapene No, non vi sto prendendo in giro. Si chiamano terrapene. Un altro modo per chiamarli è tartarughe scatola. E credo utilizzerò questo nome altrimenti rischio di non riuscire a dire una frase completa senza morire da ridere. Sì, lo so, nel mio profondo sono molto infantile. Comunque sia, sono tartarughe che vivono nella parte orientale degli Stati Uniti e in Messico. Sono tra le tartarughe più richieste dagli amanti degli animali. Possono vivere fino a 50 anni, non poco. E quindi possono diventare anche amici per la vita. Nonostante gli piaccia bagnarsi i piedi nell'acqua, sono in realtà tartarughe da terra, quindi mi raccomando che non vi salti in testa di creare un habitat con un lago profondo. Cincillà Passiamo da un roditore all'altro alla velocità della luce. A molti non piacciono i roditori erettegli, eppure a me non dispiacerebbe avere un cincillà pafutello che cammina in modo buffo per la casa. Sono originari precisamente del Sud America. Venivano cacciati per la pelle un tempo. Fortunatamente non succede quasi più questa cosa, ma ora vengono catturati specialmente per essere ingabbiati a casa di qualcuno. Si annoiano anche facilmente, devono avere sempre nuovi stimoli, addirittura è consigliabile allontanarli dai gatti domestici. Non si sa benissimo perché, ma i gatti si spaventano facilmente dalla vista di un cincillà energico e con rabbia repressa. Quando si annoiano comunque se ne vanno nella gabbia, ma quando sono in piena attività cerebrale, è consigliato liberarli, altrimenti potrebbero fare un macello delle vere pesti. Petauro dello zucchero È detto anche scoiattolo volante, ma è abbastanza sbagliato. È sicuramente adorabile e ha dalla sua parte una planata fantastica. Infatti, grazie alla membrana collegata agli arti, può fare salti lunghissimi. Gli scoiattoli non possono essere addomesticati facilmente, ma i petauri sì. Sono socievoli, carini e adorabili come pochi. Pesano un massimo di 80 grammi, tipo un piatto di pasta. Nonostante siano simili agli scoiattoli, in realtà fanno parte della famiglia dei marsupiali, proprio come i canguri. Le femmine tengono i cuccioli con loro per un massimo di 4 mesi, finché non riescono a saltare in autonomia. Il nome è dato dal fatto che amano mangiare praticamente qualunque cosa zuccherata. E si iperattivano ancora di più. Amano anche la frutta fresca e la roba vegetale in generale. Al contrario dei cincillà super cattivi, di prima i petauri dello zucchero amano socializzare. E possono anche giocare con altri animali domestici. Cercoletto. Non è il nome di un annuncio che ho scritto su Subito.it, ma proprio il nome è di un animale. Cavolo dopo terra pene mi aspetto veramente di tutto. Fa parte della famiglia dei procioni, ed è abbastanza piccolo, con una lunghezza massima di 100 centimetri e un peso di 5 chili per adulto. In realtà dalle foto mi sembrava minuscolo per via della carineria assurda. È un animale da foresta pluviale ed è notturno. Caccia grazie ai suoi affilati artigli ed è meglio non provocarlo. Però c'è un discorso molto complesso da fare sull'adozione. In realtà ad oggi è proibito. Non si sa benissimo se sia in pericolo di estinzione o meno, perché viene avvistato poche volte dai ricercatori. Pi che altro la paura è che possa ferire. Oppure essere venduto al mercato nero in altri paesi danneggiando altri ecosistemi. È molto molto attivo. A volte lotta contro il suo stesso padrone se è irritato e ha avuto magari una giornata storta. Alcune celebrità come Paris Hilton ne possiedono uno ma ripeto è sconsigliatissimo provare ad adottare un cercoletto. Anche perché la maggior parte di questi animali sono appunto venduti al mercato nero e quindi in tanti acquistano illegalmente, senza alcuna certezza. Wistiti pigmeo Avreste mai pensato che esistesse una scimmia così piccola da aggrapparsi al vostro dito? In età adulta questi animali possono raggiungere un massimo di 15 centimetri di lunghezza e 100 grammi di peso. Rischiate di schiacciarli se dormite insieme. Sembra quasi una cosa photoshoppata ma questo animale esiste davvero. Il pelo è denso e morbido quindi anche coccolarlo darà una sensazione senza pari. Si muovono per lo più in gruppo. Nella comunità tutti si aiutano a vicenda e sono i maschi ad occuparsi dei bambini. Mentre la madre si occupa solo dell'allattamento. In cattività possono vivere fino a 15 anni. In realtà nella maggior parte del mondo sono illegali da tenere. Un tempo il commercio legale era fiorente ma poi i soliti furbetti hanno cominciato a venderli a caso alle famiglie senza controllo e quindi portandoli alla morte. Per preservare la specie si sconsiglia assolutamente di adottarlo. Sono chiamati anche scimmie da dito perché adorano aggrapparsi alle dita degli esseri umani e spesso ci dormono pure. E i primi tempi sono tranquillamente più piccoli del vostro dito. E con questo concludiamo. Se volete altre classifiche animalesche lasciate un bel like. Noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.